Ieri una delegazione norvegese facente parte di un centro per la formazione per gli adulti ha visitato lo Sprar di Pozzallo. Nella città marinara fortemente attiva sull'immigrazione è presente un centro Sprar voluto dall'amministrazione comunale finanziato dal Ministero dell'Interno. A curare il progetto è la cooperativa Filotea. Si tratta di un centro per la protezione dei richiedenti asilo e rifugiati. Obiettivo la completa integrazione dei richiedenti asilo politico giunti in Italia. Ieri una delegazione norvegese e finlandese ha visitato il centro di Pozzallo. La delegazione, come detto, fa parte di un gruppo del centro provinciale per l'istruzione degli adulti. Un'occasione formativa ma anche un momento di incontro volto alla conoscenza di nuove realtà. Oggi siamo stati un po' in giro con questa delegazione della città di Arendal in Norvegia. C'è la direttrice degli insegnanti della scuola per adulti e per minori ad Arendal. Loro insegnano il norvegese agli stranieri che arrivano in Norvegia. Sono in Sicilia questa settimana, sono già stati a Palermo e stanno visitando le varie realtà dell'accoglienza siciliana. Oggi siamo stati qui a Pozzallo per vedere la situazione della prima accoglienza. E questo pomeriggio ci fa piacere essere ospiti qui dello SPRAR di Pozzallo per vedere invece cosa accade nel percorso, oltre la prima accoglienza e in che modo si lavora per la cosa che riteniamo fondamentale, il percorso di inclusione e di integrazione. Dopo l'arrivo e la sistemazione temporanea presso gli hotspot del luogo, coloro che risultano idoni e aventi diritto di asilo vengono indirizzati e accolti presso questi centri denominati SPRAR. Il passo successivo all'accoglienza è e deve essere per una buona immigrazione l'integrazione. Il progetto portato avanti mira infatti alla riconquista dell'autonomia individuale dei soggetti. L'integrazione si ottiene tramite l'orientamento e la conoscenza dei servizi del territorio, la formazione professionale e il conseguente inserimento lavorativo. Ogni giorno vengono avanzati progetti culturali e sportivi realizzati sia all'interno della comunità che all'esterno. Frequentano le lezioni didattiche svolte da un insegnante, il pomeriggio frequentano i CPA del comune di residenza e inoltre frequentano le attività sportive e soprattutto attività ludico-ricreative inserite nel contesto del territorio al fine di avere un'ottima integrazione. Grazie.